Dunque, perché Sapiens 3.0? Con i video di Telmo Pievani abbiamo potuto focalizzare l'attenzione sul fatto che la seconda ondata di Sapiens dall'Africa ha portato delle innovazioni e ha reso la nostra specie, anche se non modificata dal punto di vista biologico, modificata dal punto di vista, diciamo così, culturale. Cioè la seconda ondata di Sapiens era molto più efficiente probabilmente dal punto di vista del possesso di un linguaggio molto più articolato. E questo ha permesso a questa seconda ondata di essere invasiva e di occupare, praticamente di eliminare le altre specie e di occupare l'intera terra abitabile. Bene, in questa conferenza Telmo Pievani cita questo autore, Ian Tattersall, si era espresso in questa forma, cioè aveva chiamato questa seconda ondata di Sapiens, Sapiens 2.0. Cosa diavolo avevano questi Sapiens di nuova generazione, che Ian Tattersall ha chiamato Sapiens 2.0? Perché questi qui escono fuori dall'Africa e non c'è più storia per nessuno? Arrivano in Australia, sempre questi, e scompaiono decine di mammiferi di grossa taglia, fatti fuori tutti, mangiati uno fino all'ultimo, arrivano nelle Americhe a partire da 20, 22 mila anni fa e tu li vedi proprio scendere dall'America del Nord, America centrale, America generale e quando arrivano loro spariscono anche lì decine di specie di mammiferi di grossa taglia. Cioè è evidente che da quel momento in poi c'è in giro una serie di popolazioni Sapiens che si comportano diversamente da quelle che c'erano in giro prima. Il che mi diverte un po' e quindi adesso valutando quali sono le effettive posizioni di Tattersall vedremo come giustificare il progetto Sapiens 3.0. Senza dubbio subiamo già la minaccia di alcuni correlati delle doti che ci rendono tanto notevoli e questo ci porta a domandarci se il progetto evolutivo del nostro cervello ci abbia condannati a seguire la via autodistruttiva. Per fortuna la risposta è no, almeno in linea di principio. Adesso tralascio questa parte che vedete cancellata con una croce gialla e sottolineata ai lati con quelle linee curve perché dubbiose perché mi richiederebbe un commento troppo lungo che in questo momento voglio evitare. Io non condivido quello che dice qua Tattersall. Invece leggiamo la parte finale di tipo strettamente scientifico e non ideologico-politico come quella che ho cancellato. Anche se abbiamo molti difetti, siamo riusciti a compiere numerosi progressi negli ultimi 7 milioni di anni. Dunque possiamo aspettare passivamente che l'evoluzione completi il suo lavoro? Con un po' di pazienza l'operare della selezione naturale finirà per renderci più svegli e più consapevoli delle vaste conseguenze delle nostre azioni, punto di domanda. Sfortunatamente la risposta è di nuovo no. O almeno no se la crescita demografica attuale continuerà a essere tale. L'evoluzione dei nostri antenati è avvenuta quando gli ominidi erano molto sparpagliati nell'ambiente, divisi in popolazioni piccole e dunque geneticamente instabili, soggette a frequenti scovolgimenti ambientali. Queste condizioni erano ideali perché potessero emergere nuove popolazioni e specie, incorporando significative innovazioni genetiche e fisiche. È molto probabile che quelle circostanze instabili sommate alle nostre tendenze culturali abbiano determinato la velocità davvero insolita con cui si è compiuta l'evoluzione degli ominidi nel corso del Pleistocene. Ma ora le cose sono cambiate. Fin dal momento in cui hanno adottato uno stile di vita sedentario, alla fine dell'ultima glaciazione, i popoli umani sono cresciuti come funghi e ora in tutto il mondo lo spazio vitale è poco e prezioso. Queste nuove condizioni hanno cambiato completamente le regole del gioco. Le moderne popolazioni umane sono ormai troppo grandi e vicine tra loro perché possa fissarsi una qualche significativa novità genetica in grado di renderci più intelligenti e più capaci di proteggere i nostri interessi a lungo termine. Senza un profondo cambiamento della condizione demografica siamo destinati a rimanere incastrati nella nostra confusa essenza. Molti troveranno una simile prospettiva davvero poco ottimistica ma per fortuna la storia non finisce qui. Se le prospettive di un miglioramento biologico sembrano infatti piuttosto remote in assenza di qualche cataclisma facilmente immaginabile che possa ristabilire le normali regole dell'evoluzione l'innovazione umana nel senso più ampio non si trova invece di fronte a un muro. Non si può mettere in dubbio il fatto che i nostri sistemi cognitivi e anatomici siano ben lungi dall'essere perfetti in un'ampia varietà di contesti ma le nostre capacità razionali e la nostra stravagante passione per le novità restano davvero notevoli. Fin dei primi entusiasmi dello spirito simbolico la storia tecnologica e creativa del genere umano si è imperniata sull'energica esplorazione del potenziale innovativo derivato dal nostro nuovo modo di elaborare l'informazione sul mondo. E una cosa è certa questa esplorazione della nostra reale capacità non è affatto esaurita anzi si potrebbe addirittura sostenere che è appena iniziata così se gli auspici sembrano non portare a un significativo cambiamento biologico nella nostra specie dal punto di vista culturale il futuro non ha limiti. Ecco, quindi queste sono le basi teoriche scientifiche sulle quali fondare un progetto di rivoluzione cognitiva e mi pare assolutamente consistente questo discorso perché le nostre capacità razionali sono davvero notevoli e la nostra evoluzione dal punto di vista culturale è appena iniziata si tratta di risabilire le basi operative cioè quali sono le condizioni per poter permettere a questa rivoluzione cognitiva di prendere piede. Deve essere una rivoluzione collettiva è necessario che molte persone si impegnino in maniera diciamo consapevole anche coordinata comunque con un senso di appartenenza a questo tipo di progetto io vedo in giro molte molte tentative molte istanze molte sensibilità in questo senso ma manca il comune denominatore manca la base e fra l'altro questo autore non coglie quale deve essere la base proprio quel pezzo che ho tagliato sopra mette in evidenza le sue carenze che sono di tipo storico-politico quindi io credo che la base sia effettivamente la negazione del potere la negazione del dominio cioè la negazione di quelle caratteristiche distruttive che la specie umana si porta dietro queste cose hanno ormai una storia nascono con l'anarchismo e l'anarchismo quindi rappresenta la base ideologica sulla quale fondare questo progetto di nuova rivoluzione cognitiva quindi sui monti altai allegramente convivevano tre specie umane nella stessa zona ok poi però attenzione il neandertal sparisce da qui proprio intorno a 40.000 anni fa poi sparisce anche dall'Europa e gli ultimissimi neandertal sopravvivono a Gibilterra e poi scompaiono anche lì al massimo hanno resistito fino a 38.000 anni fa l'uomo di Denisova scompare a 40.000 anni fa quando è uscita l'ultima ondata 60.000 anni fa quei sapiens lì erano dei cacciatori raccoglitori con delle capacità di mobilità databilità e invasività molto maggiori di quelle di tutte le specie umane precedenti e tutti gli altri umani sono rimasti spiazzati perché erano abituati a convivere con dei sapiens con i quali si poteva diciamo discutere cioè con i quali si poteva convivere anche nello stesso territorio a un certo punto esce un'ultima ondata di sapiens con i quali invece non si può più discutere tant'è vero che non c'è più storia per tutti gli altri naturalmente questo apre nuove domande nel senso cosa diavolo avevano questi sapiens di nuova generazione che Tatesal Ian Tatesal ha chiamato sapiens 2.0 perché questi qui escono fuori dall'Africa e non c'è più storia per nessuno arrivano in Australia sempre questi e scompaiono decine di mammiferi di grossa taglia fatti fuori tutti mangiati uno fino all'ultimo arrivano nelle Americhe a partire da 20 22 mila anni fa e tu li vedi proprio scendere dall'America del Nord America Centrale America Dinale e quando arrivano loro spariscono anche lì decine di specie di mammiferi di grossa taglia cioè è evidente che da quel momento in poi c'è in giro una serie di popolazioni sapiens che si comportano diversamente da quelle che c'erano in giro prima la domanda un messaggio assolutamente interessante che emerge da qua è questo Homo sapiens deve il suo successo all'adattabilità a modilità l'abbiamo già detto ovvero alla sua creatività alla sua capacità di immaginazione non l'ho detto prima ma è ovvio per cacciare in modo così efficiente quel mammut quel gruppo umano la sera prima si è messa d'accordo che doveva fare certe cose ha pianificato ha immaginato per fare questo ci vuole il linguaggio articolato per forza provate a fare questa cosa qua a gesti o con vocalizzi provate i linguisti sostengono che soltanto con il linguaggio articolato tu puoi conquistare una terra che non vedi andare in un posto tornare indietro e spiegare agli altri che cosa hai visto decidere la sera prima che la mattina dopo ci si sveglia alle 6 si parte all'alba e si va a cacciare un mammut solo il linguaggio articolato ti permette di fare questo quindi noi pensiamo che forse il segreto di molte di queste storie è proprio la capacità linguistica il linguaggio articolato ma tutta questa straordinaria capacità creativa immaginativa va di pari passo con la nostra capacità invasiva con la capacità di modificare di perturbare e anche di impoverire gli ambienti che incontriamo e questa ambivalenza è filosoficamente uno dei messaggi più importanti di questa storia noi siamo una specie creativa e distruttiva al contempo e tutto sommato questa è una storia che invece ci tocca da vicino perché in fondo provate a pensare quanti esempi vi vengono in mente di questa nostra capacità creativa e distruttiva al contempo grazie a tutti